È una tecnica certificata e quindi ha un valore nazionale. Questo方法 è di studiare i fondamenti del Tai Chi Tren, è anche utile per migliorare la qualità dei massaggiatori. Si serve a capire dove dobbiamo sviluppare la forza nei nostri movimenti e come poter approvvigionarci dell'energia del cielo e della terra. Si serve a capire come fare a rilassare i muscoli e anche gli organi interni. Proviamo il primo movimento, lo stato di Wu Ji, di Yin Yang indistinto. Il corpo è retto, immagino di avere un cavo attaccato alla sommità del cavo e solleva anche la zona sacrale della corona. Due inguini sono svuotati, le gambe sono ben fissate a terra, arrivano in profondità. La mente è rilassata, il cervello è rilassato, la respirazione è regolare. Ora invece è a veloce, rilassare i nattici. Da l'ultima parte, la lunga parte, siccome si avrebbe risolto, Immagino che all'altezza del primo punto del polmone ci siano due robinette. Quando le mani sono chiuse, i robinetti sono pure chiuse. E sento che sono al centro del cielo e della terra. Adesso i due robinetti si aprono, l'acqua comincia a fluire attraverso la spalla, il gomito e i polsi, arriva fino alle dita. E poi di nuovo si chiudono e il flusso pian piano si interrompe. Apro e chiudo tre volte. Apro e abbraccio una sfera. Il movimento è guidato dai pollici dalla parte terminale del meridiano del polmone. Immagino di spingere verso terra due grossi palloni. La spinta sui palloni mi permette di risalire. Di nuovo. Terzo. Aprire, chiudere e abbracciare la sfera. Immagino che il mio corpo sia altissimo, che le braccia arrivino molto lontano. Raccolgo energia. Abbraccio tre sfere. Una davanti a me e altre due poste sotto le ascelle. Poi le mani cadono. E stendo il punto yanch del trepoliscaldatore sul centro del polso. Vado giù. Poi di nuovo mi spingo sui palloni. Quarto. Posizione di rotazione a destra e a sinistra. Lasse di rotazione. è costituito dalla colonna. Ora ruoto verso destra. Immagino che tutto quello che c'è nella parte destra del corpo, esternamente intermanente, quindi i muscoli e gli organi interni, si rilassi e ho l'impressione che scompaia, che venga risucchiato da un punto posto sotto la pianta del piede che entri tutto dentro il terreno. Poi faccio di nuovo scivolare la mano e ritorno dalla posizione di partenza. La stessa cosa dall'altra parte. Porto il dorso della mano a contatto della regione lombare in modo da allineare il punto laugung esterno con il quarto punto del vasogovernatore. Poi di nuovo scivolo e torno. Un po' di nuovo scivolo. Guardate. Ci sono i miei esercizi. Grazie. Grazie.